1, 2, 3, 3, 4, 5 Nome Manuel Sasha Ognome Belletti Modulo Anni 25 23 Caratteristiche Passista veloce Passista veloce Ti piace? Bionda La volata Bionda mora Mora Quello che ho Porti lunghi o corti? Lunghi 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 Che telaio preferisci? Che telaio preferisco? Il col nago Se ti dico curve A cosa pensi? Alla discesa Occhio Ginocchio a terra Con chi dormi? Da solo Sì Con chi capita? Di solito siamo io e Manuel Frapporti I compagni A casa tua? No A casa con la morosa Se devi segnalare delle curve Pericolose Al tuo compagno Come fai? Boia chi molla Non la segno Il tuo compagno deve Conoscere una bella donna Come lo incoraggi? Gli offro una birra Eeeh Gli la faccio conoscere Cerco almeno Immagina che ci sia Una salita Durissima Cosa dici al tuo compagno Per incitarlo? Eeeh Per incoraggiarmi meglio Dico Aspettami Il difetto del tuo compagno? Eeeh Il naso Il difetto Il difetto è un pregio Che è testardo Che quello che si mette in testa Lo raggiunge sempre Finché non ci sbatte la testa Dagli un consiglio Non ha bisogno di consigli No niente Sa già quello che deve fare Salutalo Ciao Sasha Ciao Manuel 1, 2, 3 Megazose 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 2, 3